La crisi matrimoniale di Engina Kurek, uno degli attori più famosi del mondo televisivo turco, e di sua moglie Takba Buyukustun è stata ultimamente all'ordine del giorno del mondo delle riviste. Sebbene abbiano un'ampia base di fan grazie alla loro stretta relazione e alle serie in cui hanno recitato, questo amore iniziato sugli schermi si è trasformato in realtà ed è diventato uno dei preferiti dai fan per molti anni. Tuttavia, la tensione nelle relazioni di Cetin negli ultimi mesi ha portato all'ordine del giorno le voci sul divorzio. Alla fine, la straziante dichiarazione di Engina Kurek ha dimostrato la verità di queste voci. Non voglio divorziare da Takba, ma deve essere così. La relazione tra Engina Kurek e Takba Buyukustun era come una storia d'amore da favola agli occhi del pubblico televisivo cieco. Erano noti anche per la loro armonia e amicizia nei progetti che portavano avanti insieme. Questa armonia, sia nella vita privata che sugli schermi, li ha resi una coppia da sogno nel mondo delle riviste. L'amore della coppia è stato coronato dal matrimonio e i loro fan hanno provato una grande gioia. Ma sfortunatamente, questo matrimonio da sogno ha iniziato a sgretolarsi nel tempo. Il divorzio di Engina Kurek, che ha tenuto segreto per molto tempo ma che è trapelato alla stampa, ha causato grande scompiglio nel mondo delle riviste. I conflitti nelle relazioni di coppia, i problemi familiari e l'intenso programma di lavoro hanno creato nuvole scure su questa storia d'amore. Anche se questo processo ha toccato anche i figli della coppia, le recenti dichiarazioni di Engina hanno rivelato che i problemi nella loro relazione erano più profondi di quanto pensasse. Le dichiarazioni di Engina Kurek, che hanno suscitato una bomba nel mondo delle riviste, hanno chiaramente rivelato come i conflitti nella relazione incidano sulla perla. Il famoso attore ha espresso quanto sia stato difficile per lui prendere la decisione di divorziare, ma in alcuni casi non ha visto altra via d'uscita. Non voglio divorziare da Tagba, ma deve essere così. Le sue parole rivelavano chiaramente il tumulto emotivo in cui si trovava Engin. Grazie per aver guardato il mio video. Arrivederci, ci vediamo in nuovi video.